benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e quello di oggi è un video molto diverso dal solito non tratteremo infatti lo shimakaze anche se vi lascerò un gameplay come sottofondo giusto per non annoiarvi quelle mie parole questo perché magari non a tutti può interessare argomento in essere sono rimasto piuttosto indeciso fino all'ultimo se fare o no questo video è solo che come sapete come sapranno magari alcuni di voi quelli che mi seguono anche sul sito viola nelle live che la settimana scorsa questo argomento è emerso dato che volevo rendere chiari magari alle persone il concetto e ho deciso di farci un video dedicato per essere il più chiaro possibile anche con chi magari sente per sentito dire e può farsi delle opinioni sbagliate il problema comandanti è che la scorsa settimana mi è stata diagnosticata una forma di depressione una forma grave di depressione e in realtà non che mi servisse un medico per questo considerando che io penso di essere affetto da questo problema almeno da due forse tre anni ma non saprei specificarlo con precisione e quindi niente faccio questo video vuoi per spiegare un po la mia situazione vuoi perché diciamo che concretamente la mia condizione psicofisica che potrebbe mutare nelle prossime settimane potrebbe anche mettere diciamo in difficoltà la continuazione dei canali per quelli che sono state le routine fino ad oggi io sono sempre stato ho sempre cercato diciamo di essere molto presente molto costante nel rilascio anche perché comunque considero questa cosa un punto di forza del canale una roba seria anche se sapete che faccio questo solo per hobby e invece dato che purtroppo mi hanno già detto che dovrò probabilmente assumere dei farmaci anche quindi questa cosa mi spaventa parecchio questa questo questi appunto questo questo assunzione di farmaci potrebbe anche mettermi nelle condizioni e di non essere in grado effettivamente di registrare i video o di fare le live come prima su twitch non lo so comandanti devo vedere non ho mai assunto nulla del genere non so nemmeno a cosa andrò effettivamente incontro quindi non potrei dire ok ho già questa esperienza so già che potrò fare così 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 nemmeno io so bene a cosa cosa vado incontro e cosa mi aspetta nei prossimi mesi e non so nemmeno io per quanto tempo dovrò andare avanti con questo percorso è una cosa difficile da parlare è una cosa difficile da spiegare a degli estrani anche se tanti comunque di voi sono ormai diventati come una sorta di secondi amici qui su internet considerando che c'è gente veramente che mi conosce da tanti anni parliamo neanche di quattro cinque sei anni e non solo supportano il canale e mi seguono ma soprattutto sono diventate delle persone che con le quali io a volte mi confido e mi confronto anche per argomenti molto più complicati e importanti del semplice gioco di world of warships però essendo comunque il vostro community contributor da più tempo anche se ce ne sono altri all'interno della community tante persone mi considerano una sorta di punto di riferimento e diciamo che era giusto far sapere anche loro qual è la situazione per chi mi segue più di vicino sa che per me fare questo video è molto difficile perché non sono una persona che vuole farsi commiserare non sono assolutamente alla ricerca dell'affetto di nessuno o della farmi diciamo considerare in modo come se fossi una persona in difficoltà sono una persona che affronta spesso di petto i problemi l'ho sempre fatto e non ho nessun problema a gestire le cose anche da solo però vedete essendo che mai siete parte della mia community volevo essere sincero con voi fino alla fine anche perché magari c'è qualcuno tra di voi che così in privato soffre del mio stesso problema oppure pensa di soffrirne e magari non ha la forza di affrontarlo non l'ha mai accettato eppure il primo passo per cominciare a guarire a risolvere il problema della depressione sta proprio nel riuscire a capire che si è effettivamente affetti da questo problema e andare da un professionista o da più professionisti come ho fatto io per cercare di iniziare un percorso che possa portarvi a vivere in maniera più serena non tutti sono in grado di comprendere che cos'è la depressione questo perché per molte persone le malattie psicologiche sono ancora ad oggi una sorta di malattie inferiori c'è anche ad esempio chi ancora oggi considera l'obesità un non problema quando in realtà uccide milioni di persone e tutto il mondo in tutto il mondo ogni anno pensate che la depressione uccide circa 900 mila persone ogni anno sparse nel mondo li uccide in maniera diversa e nei casi più estremi sapete benissimo che questa patologia può anche portare al suicidio ed è qualcosa che spero non mi tocchi mai anche se effettivamente poi ci sono dei casi in cui ci sono dei momenti in cui effettivamente qualche pensiero strano che non dovrebbe diciamo passarmi per la testa effettivamente accade lo dico proprio con la massima onestà senza preoccupare nessuno ma cerco sempre di essere onesto con voi la depressione comandanti è quella cosa che ti fa continuamente cambiare d'umore che ti fa alzare la mattina senza avere la forza a volte di prendere il via la giornata anche se effettivamente devi farlo perché hai un lavoro da portare avanti perché sei un professionista perché devi andare in ufficio anche se ti manca la voglia l'energia di farlo hai dei continui cambiamenti d'umore e questo va spesso anche a creare dei problemi con le persone che vivono con te o collaborano con te o lavorano con te o semplicemente ti frequentano come amico chi mi ha seguito nel corso del tempo sicuramente avrà notato che ci sono delle serate nelle quali su twitch sono effettivamente molto allegro e serate in cui sono molto cupo molto giù di morale come se mi avessero ucciso mister gray io che non accada mai però il senso il succo del discorso è quello e quindi capite che questi continui cambiamenti di umore mi hanno portato a riflettere tante volte gli attacchi di rabbia il fatto che abbia a volte delle giornate dove non potete vederle dove effettivamente affronto il lavoro in maniera quasi spossata come se fosse fosse la sera invece che il mattino quando dovresti essere energico fresco pronto per per fare per lavorare dopo una nottata di riposo a volte addirittura ti manca il sonno altre volte e fai dei pensieri strani io recentemente ho saputo che ad esempio diventerò zio per la seconda volta perché mio fratello sta per avere un secondo bambino che questa volta sembra essere un maschio e quindi lo chiameranno giovanni con mio nonno che purtroppo è venuto a mancare una decina di anni fa e questo motivo di gioia per la io sono contento per mio fratello però il primo pensiero che non è stato quello che è che bello diventa un'altra volta ma è stato quello di dire caspita mio fratello è riuscito a costruirsi una famiglia e io invece ancora sì ho un bellissimo lavoro ho una casa dove sto pagando ancora il mutuo ma ovviamente sono ancora giovane quindi è una cosa normale ho un cane non mi manca niente posso comprare quello che voglio però effettivamente il discorso affettivo è qualcosa che comincia a mancare comincia a pesare nelle vite di una persona che la settimana prossima compirà poi 37 anni quindi nel senso che sono cose che cominci effettivamente a cominciano diciamo a far parte della tua quotidianità perché ci pensi spesso specie quando vedi familiari o anche amici che hanno intrapreso certe strade che magari possono essere giuste o sbagliate ma che li sta portando ad avere rapporti personali diversi ad esempio non sono attualmente fidanzato e da un pochino non accompagna ed effettivamente anche questi discorsi comunque vanno a sfacciare la depressione perché molto spesso le persone depresse sono anche persone molto sole ed è questo anche il mio caso è vero che non bisogna mischiare la solitudine con la depressione però io credo che comunque una persona sola sia maggiormente probabilmente propensa a diventare poi una persona depressa nella maggior parte dei casi e io penso di essere un esempio appunto in tal direzione diciamo che spero che possa continuare nell'attività qui come giocatore su world of worship senza problemi non so effettivamente come i farmaci andranno a influenzare il mio umore il mio essere matteo oltre che blizzard e come riusciranno diciamo a farmi migliorare però mi sto affidando a un team di esperti del settore ovviamente degli ospedali civili di brescia dove tra l'altro sono stato in cura per altre cose nel 2019 e quindi diciamo che sono molto fiducioso che sappiano gestire la cosa al meglio però devo dire che per la prima volta sono veramente spaventato un po da quello che mi aspetta come dicevo prima non so una persona che più delle volte parla della sua vita privata chi mi segue in live lo sa bene ad esempio nel 2019 ho avuto un'operazione al pancreas perché era possibile secondo alcune analisi che dal mio stato fisico ci fossero i presupposti poi per lo sviluppo di un tumore questa cosa mi ha tenuto occupato per circa tre mesi e mezzo però pochissime persone lo sapevano pochissime persone della mia community proprio perché non volevo che la gente mi compatisse o che pensasse che fossi un martire o qualcosa del genere però questa volta mi sento invece di pubblicare di dire quello che sta succedendo perché effettivamente è una cosa che mi spaventa parecchio io sono più spaventato in questi giorni piuttosto che nel 2019 quando mi dicevano che potevo avere un male molto serio dal punto di vista fisico mentre qui si parla più di qualcosa dal punto di vista puramente psicologico parlavamo prima dell'esempio del discorso legato ai pensieri di suicidi ecco è qualcosa che io non ho mai veramente trattato però tipo l'altro giorno ero di ritorno dal lavoro vicino a casa mia c'è un ponte dove spesso vado perché c'è un amico che vive lì vicino può capitare di pranzare o cenare insieme e all'uscita appunto da una cena è capitato che mi sono fermato vicino al ponte questo ponte è altissimo e pensavo effettivamente tra me e me ma così proprio senza pensare male però pensavo tra me e me ma se cadessi adesso a chi mancherei? nel senso cosa lascerei al mondo? chi mi ricorderebbe di me se mi accadesse qualcosa? ed è in quei momenti che veramente ti rendi conto quanto sei solo quanto effettivamente a parte Mr. Grey e la mia famiglia che però vedo poco perché vivono in un altro paese un paese qua vicino ma comunque li vedo raramente perché vuoi il lavoro vuoi ognuno ormai si è costruito una sua famiglia è molto difficile avere dei rapporti con i genitori come prima o con il mio fratello come prima perché ormai è sposato ha già una bambina che ha compiuto quattro anni a dicembre quindi insomma ognuno ha i suoi pensieri e la sua vita e quindi queste cose a volte bisogna affrontarle da soli e quando si è in queste circostanze che si capisce che bisogna cercare una figura che ti possa aiutare ad uscirne e io ho deciso di intraprendere questo percorso non so nemmeno io quanto tempo ci vorrà per uscire non so nemmeno io se riuscirò effettivamente a guarire io ci metterò il massimo dell'energia il massimo di quello che posso dare per riuscire a tornare ad essere quella persona che ero diversi anni fa questo perché quando una persona se mi dodasse una persona Matteo ma sei felice? io gli direi no e se una persona mi domandasse qual è la cosa che ti manca di più è proprio la felicità io gioco e non sono felice gioco un torneo e non sono felice metto un aumento di stipendio e non sono felice ricevo ogni tre mesi più o meno nuove offerte di lavoro da aziende che mi vogliono nel loro settore e io rimango nella mia azienda attuale non sto malissimo ma comunque non lo faccio perché a volte ho quasi paura del cambiamento tipo il mese scorso ho ricevuto un'offerta per un'azienda ad Ancuna una grande azienda un gruppo che lavora nel campo dei sanitari e della manifotteria metalmeccanica però ho deciso non ho neanche preso in considerazione il colloquio anche se mi avessero offerto più soldi perché non erano i soldi la cosa che mi interessava ero quasi terrorizzato dall'idea di poter cambiare ma al di là del discorso lavorativo è proprio il discorso legato al fatto che sono sempre più timoroso di prendere in considerazione anche solo dei semplicissimi cambiamenti io ho questi cambiamenti di umore che ormai sono diventati totalmente anomali e il fatto di dover prendere questi psicofarmici da qui alle prossime settimane mi mette ancora più stress addosso quindi io vi chiedo scusa in anticipo se dovesse capitare che interromperemo magari per un periodo la produzione di video o se dovessi malogratamente scomparire per un periodo perché non me la sento e non pensiate male non pensate che abbia chiuso il canale o deciso di abbandonare il gioco o altro ma semplicemente perché non me la sento di portare contenuti dipenderà tutto da come riuscirò a prendere di petto questo percorso che è iniziato appunto ve l'ho detto la scorsa settimana in ogni caso vi ringrazio di tutto anche perché ho ricevuto già diversi messaggi negli ultimi giorni dopo quello che è accaduto su Twitch e la gente ha cominciato a scrivermi preoccupata dicendomi ah Blizzard ma ho visto ho sentito la cosa che più mi ha fatto un po' paura mi ha fatto anche riflettere è il messaggio che c'è stato ad esempio di alcune persone che mi hanno detto ma Blizzard ma una persona come te che ha questo carattere così forte e non mi aspettavo che potesse soffrire di questi problemi e il problema comandanti è che molte volte molti di voi conoscono Blizzard ma non conoscono Matteo Matteo è molto diverso da Blizzard e molte persone ormai sono quasi hanno quasi paura del mio personaggio e ci sono alcune volte quando entrano alcuni Discord che la gente quasi ha paura a parlare con me ma non perché si è intimorito o altro ma perché in qualche modo vedono il personaggio vedono il CC vedono il giocatore dei Reign vedono quello che sa tutto di questo gioco non vedono la persona e non possono immaginarsi dei problemi che invece devo sopportare tutti i giorni quando ormai la mia condizione mi sta portando a una situazione che non so più gestire nemmeno io non volevo assolutamente farvi paura con questo video non sto cercando di intimorirvi o di dire oddio santo è accaduto qualcosa di assurdo adesso lo perdiamo no comandanti è solo che volevo essere onesto con voi fino in fondo e cercare di farvi capire che sto passando un momento difficile ed è un momento che appunto di depressione forte che mi porterà a dei cambiamenti importanti vi chiedo ancora scusa se magari non sarò così attivo in futuro ma cercherò di fare del mio meglio per riuscire a recuperare da questo problema e guarire da questa malattia che ormai credo che mi stia prendendo di mira da almeno 3 o 4 anni in ogni caso la settimana prossima festegiora il mio compleanno che sarà di martedì martedì comunque farò una live su Twitch sicuramente perché la mia famiglia non ci sarà quel giorno quindi martedì sarò online su Twitch alle 20 e chiunque volesse passare per il mio saluto sarà il benaccetto giù nell'info box c'è comunque il link al mio canale io vi chiedo ancora scusa di tutto se ci fossero dei problemi non voglio farvi preoccupare però volevo essere onesto con voi fino in fondo ci sentiremo probabilmente con un nuovo video prossimamente tra qualche giorno forse la settimana prossima ancora chiaramente non lo so ragazzi solitamente chiudo i miei video con un buona caccia ma credo che questa volta il buona caccia la devo dare a me stesso perché mi aspetta una lunga battaglia che dovrò percorrere da solo e sarà dura però sono convinto che ce la farò quindi buona caccia Blizzard e a voi ciao ragazzi grazie e alla prossima